Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo nel Brunei, un posto magnifico dove la gente vive bene con un altissimo tenore di vita. In questo posto abbiamo un tenore di vita molto alto, parliamo di 50.000 dollari all'anno. Il posto è stupendo, allora come mai abbiamo questo tenore di vita molto alto, cos'è che caratterizza questo posto? Cominciamo con il dire che qui vi è una monarchia assoluta, il monarca detiene in sé tutti i tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario e qui vi è un sistema molto semplice, il politico nel qual caso venisse sospettato di essere corrotto o di avere un comportamento amorale, viene immediatamente arrestato per ordine del sultano, viene incarcerato, gli viene dato l'ergastro e viene incarcerato in un pozzo, rimane nel pozzo e viene tirato fuori una volta all'anno per essere preso a frustate pubblicamente. Ecco, questo è il sistema come viene regolata qui la classe politica e questo sistema sembra funzionare. Ecco, il posto è molto bello, come potete vedere, dopo vi farò vedere anche altre immagini, scusate un po' la calura, è veramente caldissima, vi farò vedere altre immagini, il posto è molto bello, eccezionale, vi porterò a vedere un po' questo posto meraviglioso che è immerso nel verde e vi ho spiegato anche come mai vi è questo tenore di vita molto alto. Ok ragazzi, ciao, alla prossima.